Questo piatto sembra essere stato come un pezzo di merda. Merda. Questo piatto è un pezzo di s***. E tu, mio amico, sei un'altra cosa. Il problema con questo piatto è che mi ha bloccato la gola come una pallina di catrame. E devo andare all'ospitale adesso, se no muoro. Via, grazie. Il leprotto che incontra i lamponi, incontra i lamponi, gli dici ciao. Il leprotto che incontra le more, incontra le more. E more.